vi ricordo di cliccare sulla campanella se non volete perdervi nessuno dei miei video e se volete seguirmi su instagram basta cliccare lì ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video jack si gira ragazzi si avvicina l'estate e di conseguenza la prova costume le soluzioni da adottare sono sempre le solite allenamento e mangiare bene ma mangiare bene non significa mangiare senza gusto basta semplicemente abbinare i vari cibi avere un po di fantasia e dare quell'occhio di buono in quel piatto che noi andiamo a mangiare quindi ora godetevi il video ciao 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 ciao